Momenti di paura nella serata di ieri a Montalfano con trada di Cupello dove si è verificato un incendio all'interno della centrale Stogit. Il rogo si è sviluppato intorno alle 21.45 nei pressi di un'elettrovalvola ma sono in corso accertamenti per verificarne le cause. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco di Vasto che hanno definitivamente domato le fiamme intorno alle 23.15. Fortunatamente l'incendio è rimasto circoscritto alla zona interna dell'impianto senza coinvolgere persone. Tra i primi a giungere sul posto ieri sera il sindaco di Cupello Graziana Di Florio. Ieri sera verso le 21.45 siamo stati allertati e dal personale Stogit e dai residenti di trada Montalfano che era scoppiato un incendio all'interno della centrale di trattamento della Stogit quindi ci siamo recati subito sul posto. Ovviamente noi non ci siamo avvicinati non sappiamo quale sia stata la causa, stanno verificando anche loro. Pare che l'incendio sia scoppiato vicino a questa elettrovalvola che funge anche da sfiato, permettetemi la parola, per il gas quando entra in funzione tutto il sistema di blocco dell'impianto. Mi corre l'obbligo di ringraziare i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che sono intervenute immediatamente sul luogo dell'incidente. Il sistema di sicurezza all'interno dell'impianto è scattato immediatamente quindi circoscrivendo l'area soltanto all'interno dell'impianto di trattamento. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi critici all'interno della centrale. L'ultimo risale a luglio del 2019 quando vi fu una fuoriuscita anomala di gas e con l'allarme che rientrò poche ore dopo.